Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. A Rione Aversa si vive come in una cloaca, avvertono i condomini degli alloggi popolari che per dare peso alla loro affermazione ci indicano la maleodorante fogna, cielo aperto, che da una settimana vomita liquami sotto le finestre di uno stabile, dove al primo piano tra l'altro abita una famiglia con tre bambini. Da tempo abbiamo chiesto al comune di intervenire, a molte le promesse, dicono i cittadini, non abbiamo ricevuto altro. Lo scoppio della fogna, solo uno dei tanti disagi, che rende questo quartiere avellinese da anni abbandonato e prigioniero del degrado. Gli edifici fattiscenti fanno acqua dappertutto, vertono, le infiltrazioni hanno divorato le strutture, la pioggia di calcinaccio è sempre più fitta e ora i residenti di Rione Aversa hanno paura di finire tra le macerie, gli eventuali crolli. Il problema che vogliono fare, qualsiasi cosa vogliono fare, questa è una questione di igiene, è una questione di salute, è quasi pieno le malattie, arrivano topiche, cioè non si può... Bambini costretti a stare barricanti. Ma bambini guarda che hanno fatto pure qua, cioè noi abbiamo fatto aprire un po' di spessore qua per passare e ora dove passano questi bambini? Dove giocano? Il corso della cantina è ancora peggio, sai perché? Perché rode, rodifle fondamenta, noi rischiamo pure di cadere, cioè il palazzo rischia di cadere perché per anni e anni che l'acqua sotto va a rovinare le fondamenta, il palazzo rischia di cadere con una piccola scossa e io non lo so che cosa dobbiamo fare, io mi sono stufata, cioè mi sono proprio stufata di segnalare, andare ai sindacati, andare al comune, fare riunioni tra noi, tra noi non serva a niente, chiamare i vigili del fuoco, i vigili urbani, chiamare i medici sanitari, abbiamo chiamato di tutto e di più. L'ultimo ci avevano detto, ti ripeto, che avrebbero fatto le fognature nuove, così come non solo da noi ma in tutto Avellino, ma la qualcosa mi pare che non si è verificata.